Tony Dallara, il ritorno dopo il coma a Domenica in Mara Venier, piange in diretta. Il video che sta commuovendo l'Italia! Ma prima di raccontarti il perché del commovente gesto di Mara Venier, ti chiedo di iscriverti al canale e di lasciare un mi piace. Grazie mille. Domenica. In si trasforma in un momento straordinario quando Tony Dallara, il celebre cantautore di 87 anni, sale sul palco dopo mesi di assenza dovuti a un coma. La conduttrice Mara Venier, visibilmente emozionata, chiede a Dallara se è disposto a cantare, scoprendo il suo incredibile coraggio nonostante le difficoltà recenti. L'artista, ospite insieme ad altri grandi nomi della musica italiana, non si tira indietro e con determinazione esegue due dei suoi più grandi successi, Romantica e Ti dirò. Nonostante la voce non sia più la stessa, la passione e la forza di Tony Dallara colpiscono il cuore del pubblico. Dopo l'esibizione commovente, Mara Venier, incapace di trattenere le lacrime, interrompe la diretta chiedendo di mostrare un filmato. Questo toccante ritorno di Tony Dallara, vincitore del Festival di Sanremo nel 1960, sta facendo emozionare l'Italia. Scopri di più sulla storia di questo grande cantante che ha segnato la storia della musica italiana. Grazie per tutti. Grazie a tutti.